Smalling non è veramente un ragazzo che sa giocare a soffrire, si tira un pochettino indietro, però il suo infortunio è difficile, è veramente difficile. E' una grande frustrazione per me, perché è esattamente nella posizione che noi abbiamo più necessità. Però niente, dobbiamo avere pazienza, io non devo massacrarmi e non posso neanche massacrare a lui.